che cosa vedremo in questo video una breve anteprima per mostrarvi questa scena in cui un personaggio il solito robot dell'unreal engine 5 questa volta di colore rosso si muove all'interno di questa bellissima arena in stile gladiatore vedete quanto sia bella e ampia per fortuna non ci sono gladiatori o best feroci che ci creerebbero qualche problema ma noi in effetti vedete siamo bene armati e possiamo difenderci anche volendo con la pistola vediamo di mettere via il fucile ecco qui vedete siamo bene armati però chiaramente non c'è nessuno e quindi non è un problema ora questa era solo un'anteprima anche la webcam vedo che lagga molto iniziamo il video come si deve sigla cari amici di mille un'avventura come avete visto nell'anteprima ci occuperemo dell'unreal engine questo motore 3d questo game engine 3d che è davvero fotorealistico che permette di realizzare cose lavorandoci tanto ovviamente di questo genere ma andiamo a vedere di cosa parliamo avete già visto l'anteprima ma di cosa parleremo in questo video ora abbiamo scoperto questo bel canale let's make game che ci ha anche fornito una serie di assets gratuiti che possiamo utilizzare nei nostri giochi sono tutte animazioni molto belle molto realistiche prese da un progetto di epic games ma confezionate in modo da poter essere utilizzate in un videogioco nostro che produciamo noi grazie alla real engine 5 ora ci sono delle novità 15 ore fa quando sto registrando hanno pubblicato su questo canale un nuovo video e questo nuovo video innanzitutto qui vedete lo andremo a rivedere tra poco sul nostro computer tutte le animazioni che hanno confezionato assieme all'interno di questo pacchetto quindi questo l'abbiamo già mostrato un mesetto fa mi sembra addirittura 7 settembre e ne abbiamo già parlato ma tutto questo pacchetto lo potete scaricare da un link che ho già mostrato in un video precedente ma per comodità ve lo rimetto qui sotto ora che cosa è successo ecco in questo nuovissimo video di dicevo poche ore fa let's make game ci propone di sostituire al modello robotico consueto dell'unreal engine ci spiega come applicargli nuovi modelli e adesso vediamo ecco intenzione di applicargli questo modello di pirata oppure anche un modello creato con meta human che cos'è meta human ne parliamo magari adesso proprio mostrando il seguito del video è un metodo un software creato da epic games che consente di creare modelli tridimensionali di persone maschile e femminili assolutamente fotorealistici vedete qui c'è il pirate il pirata creato da maxim bugrimov l'ha pubblicato 8 mesi fa 10 mesi fa e è gratuito si può scaricare e nel video vedete di let's make game trovate direttamente tutti i passaggi per applicare questo modello qui o le sue alternative al posto del solito robot di unreal 5 ora la cosa interessante è che in quel video si mostra anche come applicare dicevo un meta human cioè questi modelli assolutamente fotorealistici quando li vedete animati davvero insomma rispetto a quello che eravamo abituati solo a pochi anni fa sono davvero delle cose spettacolari sembra di avere di fronte delle persone reali chissà tra qualche anno saranno indistinguibili e su questo argomento meta human poi torniamo alle animazioni di let's make game avevo già fatto alcuni video e quindi ve li linko qui sotto se ve li siete persi così andiamo un po a ripescare del materiale di due anni fa addirittura ecco avevo utilizzato meta human per cercare di ricreare un po le mie fattezze e come al solito quando ci sono dei giochi in cui si può personalizzare il personaggio tento di ricrearmi ovviamente viene sempre molto più bello dell'originale e qui due anni fa vedete era appena uscito meta human e avevamo provato si può fare di meglio ancora più somigliante ma avevo fatto una cosa anche abbastanza veloce anche troppi capelli in effetti però era venuta una cosa abbastanza simpatica che potevo utilizzare nell'unreal engine 5 si sta annoiando cerco di abbreviare un po che si può usare nell'unreal engine 5 e avevamo visto come importarlo in una scena dove avevo messo alcuni pezzi presi a caso da dal solito dal solito repository dal solito marketplace avevo messo un po di oggetti per creare una scena e vedete che qui ero riuscito ad applicare il mio meta human applicato direttamente al posto del robot dell'unreal engine 5 quindi è una operazione che si può fare ho notato però nel video nel video che avete visto prima che il modello del pirata si riesce facilmente ad applicare o meglio ci vuole una serie di operazioni ma neanche troppo lunghe e basta seguire il video e si riesce a fare invece col meta human c'è più da lavorare quindi non sono riuscito in questo video a fare quello che qui vedete cioè a mettere al posto del robot il mio personaggio con il fucile con la pistola e allora sarà oggetto probabilmente di un futuro video perché bisogna fare passo passo tutta una serie di operazioni e allora cosa vi mostro in questo video qui innanzitutto in azione il robot pilotato da me però vi faccio vedere anche questi assets voi sapete che epic games regala tutti i mesi 5 assets per il suo unreal engine 5 oltre a regalarci ogni settimana uno o due giochi non so se vi siete persi questi della settimana avete ancora qualche giorno per recuperarli c'è un bel battle royal in stile pirata andatevelo sicuramente a vedere se vi interessa e poi regalano anche tutte questi tutti questi assets solo per questo mese poi il mese successivo ce ne saranno altri ma questi torneranno ad essere al prezzo pieno e vedo qui che quello che vedremo in questo video costa 70 euro ora questi 70 euro valgono adesso zero per questo mese e quali assets hanno regalato apro però una parentesi mi pare che team suini il liceo di epic games stia licenziando parecchia gente parecchie centinaia di sviluppatori evidentemente le cose non stanno andando così bene stanno spendendo più di quello che guadagnano ha detto team e beh per forza con tutti questi regali che fanno sempre ormai fortnite non tira più come una volta le skin si qualcuno le compra ancora ma evidentemente i guadagni attraverso fortnite che sta facendo epic games non sostengono più l'intero ecosistema e quindi hanno dovuto licenziare hanno dovuto far pagare l'unreal engine per qualche applicazione per cui invece era gratuito quindi speriamo insomma che si ritirino su perché davvero stava funzionando tutto bene andate a giocare a fortnite e comprate le skin così team suini è contento e non licenzia più gente a parte gli scherzi e si vede che la situazione è davvero seria questo mese vi dicevo sul marketplace hanno regalato questa arena per gladiatori questo ambiente stilizzato con torri e alberi poi c'è questo un'ottimizzazione per personaggi non giocanti se avete mille personaggi non giocanti nella scena questo pacchetto vi aiuta a ottimizzare tutto poi ci sono materiali fotorealistici e qui sotto delle grotte delle delle grotte con tanti funghi qualcosa di fantasy insomma ecco in questo video tanto per fare qualcosa in più vi mostro l'arena dei gladiatori presa direttamente ispirata direttamente dal film il gladiatore direi perché somiglia tanto proprio come come pezzi e quindi andiamo a vedere subito vedete qui c'è volevo magari mostrare anche questo ma è più stilizzato allora andiamo a vedere qui l'arena dei gladiatori come vedete proprio è desolata è molto apocalittica però è proprio una vera arena e si può combinare tutta quella serie di pezzi che avete visto allora cosa facciamo innanzitutto vado a caricare il mio meta human così lo metto nella scena anche se non è animato mi preparo tutto qui vedete avete tutti questi presets questi personaggi già già pronti per essere utilizzati però si possono ecco creare personaggi personalizzati ecco questo non so omar cosa ci stia a fare qui era una prima prova però vado a usare direi questo e ora andiamo a ripescare innanzitutto il dimostrativo dell'aero locomotion che hanno preparato tanto per vedere quanto è bello e qui vedete il robot che avete visto anche nell'anteprima che si fa una bella corsa si fa una bella passeggiata innanzitutto vedete che riesce a salire tutto molto ben organizzato qui può anche saltare l'ostacolo lì vedete che c'è il mio personaggio adesso lagga un po' perché sono nell'editor ho mancato la presa sì eccolo qui il mio personaggio e vorrei sostituirlo a questo robot pare che sia difficile ecco scusate ma mi tolgo perché tanto è tutto molto ecco adesso tanto lagga la nostra webcam perché è molto presa la scheda grafica da altre operazioni cioè renderizzare questa scenetta qui però evidentemente la sta renderizzando un frame rate così elevato che ci sono dei problemi allora lì vedete il nostro personaggio però non è animato e il bello di questo pacchetto è che vedete si può salire sui muri molto realistico si può saltare si può correre correndo si può ecco farle capriole farle scivolate e poi ovviamente la cosa che ci interessa di più torniamo qui sono le armi che hanno inserito e possiamo prendere la pistola sparare penso di aver già mostrato queste cose nel video precedente posso riposizionare la pistola prendere il fucile e sparare col fucile quindi funziona benissimo andiamo adesso a vederlo nell'arena mi sono appigliato appena in tempo vediamo se siamo abbiamo il sangue freddo caspita non fa una piega anche se gli stiamo sparando nei piedi ecco vedete imperturbabile non si muove ecco speriamo di riuscire a metterlo al posto di questo robot qui allora cosa facciamo andiamo a cercare la scena con l'arena c'è sia nel pacchetto che scaricherete è gratuito ripeto il dimostrativo e poi i singoli pezzi andiamo a prendere direttamente il dimostrativo ecco qui la nostra la nostra arena l'andiamo a eseguire ed ecco il personaggio che avete visto prima che si muove all'interno di questa arena salta gli ostacoli vediamo se c'è qualcosa su cui possiamo su cui possiamo salire c'è questo blocco di pietra e vedete che si sale assolutamente in modo realistico volevo saltare ecco su questa colonna abbattuta e vedete insomma è molto bello come come scenario ecco questa zona illuminata forse si vede ancora meglio e qui c'è l'effetto lens flare del sole è inutile è un real engine davvero spettacolare volendo si può correre qui sotto qui c'è buissimo non so vedete siamo passati nel sotterraneo qui questa porta no non c'è la logica che la fa aprire però vedo laggiù andiamo a vedere un attimo torniamo qua giù poi boh c'è l'imperatore che ci guarda da lassù è piccolino non so se lo vedete mi sembra anche di riconoscerlo l'imperatore ha delle fattezze mi ricordano qualcuno però è così lontano che chissà se è lui oppure no è lì lì in alto io non posso salire su a vedere vediamo un po' se riesco a salire qui niente non mi fa salire di qua non si sale tutte le porte sono chiuse posso salire su questo ma è un masso troppo basso per poter saltare su niente rimarremo col dubbio chissà chi è quel tizio lassù e direi che siamo contenti così ecco abbiamo visto la nostra scena all'opera su questi cavi posso salire posso salire sui cavi allora faccio il giro di qua anzi andiamo su questo che è più vicino ecco sì molto realistico come salita sui cavi non cadere niente sì qui ci vuole un equilibrista per poter salire su comunque niente vi ho fatto vedere la scena è molto bella e per tutto questo mese la potete scaricare gratuitamente anche se non avete intenzione di realizzare dei giochi con Unreal adesso magari un giorno vi verrà voglia quindi vi conviene cercare di recuperare il materiale gratuito così avrete qualcosa con cui realizzare i vostri giochi a me non resta che ringraziarvi per l'attenzione e ci si rivedi in un prossimo video in una prossima diretta ciao a tutti